Dieci ore al giorno nei campi, piegati a raccogliere ortaggi per un euro l'ora. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Alto Pascio, in provincia di Lucca, hanno scoperto e denunciato marito e moglie, entrambi di 45 anni, per lo sfruttamento di manodopera straniera. I reati sono stati commessi da aprile a settembre 2020, nella coltivazione e raccolta di ortaggi nell'azienda di proprietà della donna, un albanese a Capannori. È stata una lite in un bar tra il datore di lavoro e un dipendente, per questioni economiche, a rivelare ai militari la situazione dell'azienda. La coppia, approfittando dello stato di necessità di lavoratori stranieri, non ha esitato per tutta la stagione estiva 2020 a far lavorare gli stessi nei campi fino a 10 ore al giorno, con l'allettante promessa, ovviamente mai mantenuta, di avere presto un contratto di lavoro che avrebbe consentito loro la permanenza in Italia. Testimoni, tre nigeriani di 33, 30 e 27 anni, uno dei quali irregolari in Italia.